Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale se siete di ritorno e invece benvenuti se siete nuovi. Io sono Martina, trader dal 2015 e trading coach della community degli Ichimokers, di cui vi lascio tutti quanti i link qua sopra, qua sotto, in modo che possiate trovare tutte quante le informazioni che voi mi chiedete sempre dopo ogni video. Oggi sono qui appunto con un nuovo video per parlarvi di quanto grande è avere un conto, quanto aver depositato su un conto, quanto serve per effettivamente vivere di trading e quanto serve invece per volere il trading soltanto come arrotondamento al lavoro principale. Quindi andiamo a rispondere a questa domanda perché mi viene chiesto veramente veramente sempre e purtroppo la risposta non piace quasi mai, ovvero dipende. Ci sono mille fattori da tenere in considerazione perché dipende dalla strategia, dalle performance, da che cosa ci si aspetta dal trading, mi aspetto 80.000 euro al mese o 800 perché chiaramente le cose cambiano. Quindi non potendo dare una risposta oggettiva e dare appunto così su due piedi la risposta corretta perché non esiste una risposta corretta, vi farò vedere tutto quello che è il calcolo, molto semplice, non pensiata, chissà che cosa, che vi permetterà di capire di quanto avete bisogno per effettivamente fare del trading ciò che volete, che sia viverci, che sia utilizzarlo per arrotondare il vostro diciamo lavoro principale, che sia utilizzarlo come investimento di una certa tipologia. Quindi andiamo a vedere quali sono i fattori determinanti, che cosa dobbiamo tenere nel nostro calcolo, per capire quanto effettivamente ci serve a seconda di quelle che sono le nostre aspettative. Così una volta per tutte non dovrete dipendere dalla risposta di un trader che vi dica servono X soldi o Y o Z, ma potrete fare i vostri conti e capire effettivamente quanto vi serve per fare del trading ciò che volete. Quindi direi spostiamoci sui nostri grafici, anche se andremo a vedere più che grafici un po' di calcoli, e andiamo a dare definitivamente una risposta a questo grandissimo quesito. Ok, allora, no, non ci troviamo sul grafico di Eurodollaro per farvi vedere l'operazione che sto facendo, anche se ormai ci siamo passati, ma andiamo a prendere il nostro foglio bianco. Allora, la fatidica domanda quanti soldi mi servono, e poi ci sono le due variabili, per vivere di trading o per arrotondare, non può avere una risposta oggettiva, perché in primis io dovrei sapere chi siete voi. Nel senso che è ben diversa una domanda di questo tipo da, supponiamo, uno studente che vive magari con i genitori, per cui per vivere effettivamente ha bisogno di 1000 euro al mese, e una persona che magari ha casa, macchina, figli, che per vivere ha bisogno di 2500 euro al mese. Ok? Capite che è ben diverso il tutto. Quindi, non soltanto non c'è una risposta oggettiva, perché ci sono delle variabili, che sono poi anche la strategia, che sono poi anche... adesso le andiamo a vedere tutte, ma la variabile principale è chi sei tu? Quando mi viene fatta questa domanda, ormai mi viene da ridere, mi rendo conto che non è che fa ridere, non vuole essere una cosa cattiva, perché in passato anch'io facevo questa domanda, però effettivamente ora ci penso e dico ma come faccio io a dirlo? Chi sei tu? Che esigenze hai? Di cosa hai bisogno? Perché cambia, cambia tanto. Non sto parlando di se volete appunto il trading per vivere o per arrotondare, parlo proprio di cifre. Quanto costa il vostro stile di vita, ma indipendentemente da ciò, qual è la vostra aspettativa? Perché già se mi dicesse io vorrei guadagnare 2500 euro al mese, quanto devo avere di conto? Chiaro che c'è un'altra variabile ancora, che adesso andiamo a vedere, però già si inizia ad avere qualcosa di un po' più delineato. Quindi, diciamo che, questo per fare degli esempi, quindi chiaramente tutte queste cose poi andranno messe su di voi, andranno cambiate, diciamo che vogliamo guadagnare 2500 euro al mese, che sono tra l'altro 30.000 euro annui. Quindi, ok, uno stipendio, insomma, un buono stipendio, soprattutto per la media italiana. Perfetto, ok. A questo punto, già è molto più facile fare il calcolo, ma ci manca, qua abbiamo il conto nostro ideale, ok? Ci manca ancora una, cioè abbiamo ancora un'incognita, che è il nostro conto ideale, chiaramente dipenderà da questa cifra. Questa cifra è il rapporto con qualcos'altro. Questo qualcos'altro non è niente po' di meno che la nostra percentuale media che ci portiamo a casa mensilmente. E mi direte, ma come faccio io a saperlo? Eh, aspetta, prima ancora di porti questa domanda dovresti aver già fatto un backtesting, dovresti già avere risultati della tua strategia, chiaramente su base del passato, che può essere diversa da quella del futuro, però chiaramente è tutto su base statistica, inizia a darci delle idee. Se non hai minimamente idee di che cosa sto parlando, ovvero del backtesting, ti faccio passare qua sopra un video che ho fatto qua su YouTube e che sicuramente può illuminarti. C'è anche un file che puoi scaricare, quindi insomma puoi sbizzarrirti. Però prima di andare a valutare il conto ipotetico, è chiaro che uno bisogna avere una strategia. Una strategia solida, che la si utilizza per bene, un bel trading plan, tutte queste cose che sono alla base di appunto una strategia e di un'operatività. Non ha neanche senso porsi la domanda del conto, iniziare a tradare soldi reali se queste cose non si hanno assodate. Ma dopo questa, avere un backtesting che ci dia una stima media delle nostre percentuali annuali e quindi mensili. Facciamo finta quindi a questo punto, diciamo che ce le abbiamo e se non le avete ragazzi qua siete fermi, è inutile che vi fate i conti di quanto è, abbiate le vostre percentuali e fate backtesting. Se backtesting, trading plan, tutte queste cose non sono state fatte, questa domanda non fa ancora per voi. Non siete al punto di potervi porre questa domanda, ci sono tante altre domande e tanti altri dubbi che vi dovete porre prima di farvi questa domanda. Diciamo che però abbiamo il nostro backtesting e il nostro backtesting ci dà una percentuale media annua del 60%, quindi voi vi portate a casa il 60% medio anno. Ragazzi, sono stime, c'è l'anno in cui potete fare il 20, l'anno in cui potete fare il 120, l'anno in cui fate il 60, l'anno in cui il 50, insomma è una media, ok? Chiaramente qua giustamente uno potrebbe dire, anzi, non probabilmente giustamente, uno potrebbe dire ingiustamente. Eh, ma io voglio qualcosa di più stabile, di più... Ok, allora il trading non fa per te. Perché il trading è comunque imprenditoria e sappiamo bene, se non lo sapete ve lo dirò io adesso, che gli imprenditori non hanno uno stipendio fisso, ma è molto variabile. Ci sono mesi in cui si possono vedere 5 volte lo stipendio medio e mesi in cui magari lo stipendio può anche non esserci. Questo è il gioco del trading, quindi bisogna sempre pensare a statistiche, a medie. Diciamo appunto una media annuale del 60%, che di conseguenza, su base mensile, è il 5%, ok? Quindi noi già abbiamo dei dati molto ben precisi e specifici, che sono, vogliamo 2.500 euro al mese di media, diciamo che vogliamo circa 30.000 euro l'anno, poi 3.000 un mese, 2.000 l'altro, 1.500 un altro, 0.1, 5.000 l'altro, ragazzi, bisogna convivere con questa variabilità, perché il trading funziona così. Ci saranno mesi positivi, mesi molto positivi, mesi in pari, mesi negativi, ok? Quindi queste sono appunto medie. In media, la mia strategia performa il 5%, devo essere pronto e conscio al fatto che quest'anno mi può performare il 50%, quest'anno la strategia mi può performare il 20%, oppure il 120%. Anche qua bisogna essere comunque molto variabili, per questo io comunque consiglio di passare ad un trading full time o comunque come una delle attività principali quando si ha anche un bel cuscinetto finanziario da parte. Ma questo è un altro discorso che diventerebbe troppo ampio qua, ma che comunque è la base. La base per uscire nel trading, ragazzi, è una solida base finanziaria. E non intendo essere ricchi, intendo avere la consapevolezza del proprio budgeting, del proprio financial plan, avere tutto sotto controllo. E partire con una base, cuscinetto, che se succede qualcosa siamo pronti. Anche se dovrebbe essere comunque pure qui uno step by step. Passare ad un trading full time dopo un po' di tempo in cui il trading lo si è affiancato al proprio lavoro, alla propria attività principale, allo studio magari e via così, che poi è quello che ho fatto io. Ok, quindi qua già i calcoli, vedete che diventano molto semplici. Che conto devo avere se voglio avere una media di 2500 euro al mese, sapendo che performo il 5%? Qua, ragazzi, si va di proporzione. Quindi la facciamo qua insieme. Le proporzioni, ragazzi, vi salvano la vita, tipo il 99% delle volte. Perché? Perché sappiamo che 2005, che è la cifra che noi vogliamo mensilmente, sta a x, dove x è il nostro conto ideale, come il 5% sta a 100. A questo punto andremo a fare 2005%, ok, che fa 25.000, no, 250.000, comunque a casa mia, perdonatemi, fratto 5. Quindi, facile facile, il nostro conto deve essere di 50.000 euro. Ok. Ora, qua è tutto un casino, ragazzi, ma qua sotto vi lascio un tool che potete scaricare per calcolarvi molto, molto velocemente, appunto, il vostro conto ideale. Però, come vedete, è tutto molto semplice. Ma, attenzione, quando è che è molto semplice? Quando si hanno le idee chiare. E come ogni cosa, perché sia semplice, perché sia fattibile, deve essere chiara nella nostra mente. Ma anche questa, come tante cose che dico nei video, non è una novità. Non sono cose soltanto per il trading, ma sono cose applicabili a tutta la vita. Non potete venire da me a chiedermi quale, quanto serve per vivere. Dipende, che cosa vuol dire per te vivere. Perché vivere per alcune persone vuol dire 1000 euro al mese, per altre 2005, per altre 10.000. Capite che è tutto molto soggettivo. Quindi, molto semplicemente, voi dovete capire qual è la media che vorreste guadagnare mensilmente, ricordandovi sempre, grande disclaimer, che è tutto una media. Ok? Qual è la percentuale media che portate a casa ogni mese? Ok? Media, perché chiaramente ogni mese non c'è il 5, c'è il 4, c'è il 2, c'è lo 0, c'è il meno 2, c'è il meno 1, c'è il 7, c'è il 10. Ok? A questo punto andate a fare una proporzione semplice semplice, dove quello che voi volete vedere mensilmente sta ad x, che sarà il vostro conto, come il 5 sta nel numero 100, proporzione. Quindi andiamo a moltiplicare 2500 per 100, che fa 250.000, che diviso 5 andrà a darci 50.000 di risultato. Ok? È molto facile. Diciamo che però, vogliamo fare un altro esempio, facciamo tutt'altro esempio. mi basta iniziare con 500 euro, cioè io voglio iniziare che comunque mi arrotondi i miei 500 euro. Ah, tra l'altro ragazzi, disclaimer, non ho calcolato le tasse, quindi tutto questo discorso è all'ordo. Ricordatevi che dovete aggiungere la percentuale del 26% del capital gain, che chiaramente sono le tasse che dovrete lasciare poi alla fine dell'anno per il guadagnato appunto sul vostro trading. Comunque abbiamo detto che 500 euro sono i soldi che vorreste avere mensilmente, come media e anche qua c'è una grande variabile. Quanto performa la vostra strategia? Perché se la vostra strategia performa il 2% mensile, chiaramente vorrà un conto. Se la vostra strategia performa il 5 di nuovo, è un altro paio di maniche. Andiamo a fare di nuovo i due esempi. Ok? Abbiamo detto che in questo caso devo fare 500 per 100 che fa 50.000 diviso 2 che mi dà 25.000. Quindi vedete che in questo caso io ho bisogno praticamente per fare solo 500 euro sì, scusate, qua è un euro la metà di quello che avevo prima. Ma perché la metà se voglio di meno? Perché la percentuale cambia. È molto minore. Ok? In questo caso invece col 5% andiamo a fare di nuovo 500 per 100 che fa anche qui 50.000 che è diviso 5 andiamo a fare con 10.000 dovrebbe essere. Esatto, 10.000. quindi per fare 500 euro al mese con il 5% avete bisogno di un conto di soli tra virgolette 10.000 euro. Ok? Quindi vedete come cambia tutto da cifra che è l'incognita numero 1 le percentuali che è l'incognita numero 2 e chiaramente è molto facile sedersi a tavolino e dire voglio questa cifra qua non è altrettanto facile capire quali sono le percentuali e ragazzi non andate a pensare a delle percentuali così su due piedi dite ma io penso che ho visto da no, backtestate non pensate di fare il 5% perché negli ultimi due mesi avete fatto il 5% non pensate di fare il 10% perché negli ultimi due mesi avete fatto il 10% backtestate e basatevi appunto su quelle che sono le vostre performance per esempio io quest'anno sto performando molto meno rispetto alle performance dell'anno scorso c'è ad ora che siamo praticamente a metà novembre un 20% di discrepanza negativa rispetto all'anno scorso quindi cosa vuol dire che o adesso vado a fare un 20% in un mese e mezzo oppure quest'anno chiaramente si chiuderà a meno rispetto all'anno precedente va bene così se un anno faccio il 60% un anno il 40% e un anno il 50% la mia media sarà il 50% se un anno faccio il 100% un anno il 200% la media sarà il 150% dovete sempre ragionare su delle medie quindi ecco qua la risposta quanto mi serve per vivere o utilizzare il trading come entrata secondaria chi siete quali i vostri stili di vita che cosa vi aspettate quanti soldi comunque risposta poi definitiva quanti soldi volete ok potete anche procedere a step potete anche dire ma facciamo una cosa io il primo anno voglio arrotondare quindi basta 500 euro al mese vediamo come va il primo anno e intanto inizio ad ingranare io consiglio sempre questo non partite mai con delle cifre grosse che poi in questo caso 10.000 per molti magari saranno anche tanti soldi per altri no al contrario si potrebbe dire ah ma soltanto 10.000 è tutto molto soggettivo chiaramente quello che potete fare appunto è partire a step e piuttosto che farvi un'aspettativa di quanto avete cioè quanto volete potete dire ok io in questo momento mi posso permettere un conto da 2000 euro ok mensilmente performo perché vado molto blando vado molto tranquillo il 3% che comunque è una buona cifra ecco poi chiaramente più salgono le cifre i conti più questi sono dei ritorni importanti a questo punto il calcolo cambierà leggermente perché mentre noi prima avevamo comunque il nostro ritorno mensile che volevamo in questo caso è lui l'incognita quindi la nostra x sta al conto che abbiamo quindi 2000 euro come sì qua non c'è una freccia il 3 sta al 100 quindi a questo punto dovrò andare a fare 2000 per 3 che fa 6000 diviso 100 che come risultato ci dà 60 ok 60 euro al mese sono l'equivalente del 3% in 2000 ok e potete iniziare così sì è vero non sono chissà quali soldi però ricordatevi che comunque fare con costanza una cifra del genere su un conto di questo tipo equivale a fare il 3 e lo stesso 3 con la stessa costanza potete farlo su un conto da 20.000 euro 200.000 euro a quel punto diventeranno 600 euro al mese 6000 euro al mese non sottovalutate mai i soldi nel senso non sottovalutate mai una strategia o comunque il vostro operato perché magari a livello di ritorno economico vi dà poco perché quello che conta davvero sono le percentuali quando voi avete a mente le percentuali che fate il conto che volete o che avete la cifra che volete o che avete sono dei giochini molto facili da fare per poi far bilanciare il tutto su quelle che sono le vostre esigenze e aspettative non andate a deridere 60 euro se questi 60 euro sono il 3% in modo costante su 2000 euro perché alla fine dell'anno avrete comunque fatto un 36% che ragazzi sono cifre comunque sono percentuali molto buone che chiaramente a seconda poi delle cifre andranno ad avere un peso diverso nella nostra vita economica ok però un 3% fatto con costanza è assolutamente un risultato validissimo validissimo ed è praticamente migliore di qualsiasi altro investimento che vi possano proporre ok cioè penso che la maggior parte degli investimenti magari in banca o che so io ci metterebbero la firma per avere un ritorno del genere ok quindi ecco qui le varie incognite che dovete andare ad utilizzare e ad averchiare più che altro per capire che cosa potete appunto realizzare sia che vogliate una cifra dite ho tutta la disponibilità del mondo quanto devo depositare perché effettivamente io abbia questa cifra qua e allora avete la risposta altrimenti se dite io ho questo conto e realizzo queste percentuali quanto posso realizzare il conto e il calcolo è molto molto facile a quel punto sapete che per guadagnare di più o andate a lavorare sulle percentuali cosa che si può fare ovviamente potete andare a fare delle modifiche alla strategia a vedere cosa funziona meglio cosa magari funziona male e quindi toglierlo oppure ad inalzare il conto adesso abbiamo anche poi queste firm che ci danno accesso a dei conti importanti tipo 100.000 200.000 euro dollari che chiaramente vanno a rendere molto più veloce il processo di accumulo di denaro e di ritorno economico dall'investimento del trading queste firm per esempio quando io ho iniziato non c'erano quindi io mi sono dovuta fare il mazzo tutti i primi anni per arrivare al conto da me desiderato e fortunatamente sono venute fuori proprio dopo la realizzazione da parte mia del conto realizzato sono arrivata al mio obiettivo di conto e un paio d'annetti dopo sono venute fuori le prime firm io ringrazio tantissimo questa cosa qua perché probabilmente mi sarei magari un po' adagiata non lo so questo è un altro discorso a parte e vi linko qua sopra il video dedicato alle firm in particolare a FTMO dove io ho appunto un parere comunque molto positivo ma ricordo che bisogna sempre avere piena responsabilità del proprio capitale e avere il proprio capitale o comunque costruirlo nel tempo senza adagiarsi su un conto di una firm che come ci viene dato ci può essere tolto quindi ragazzi questa è la risposta alla domanda che conto mi serve molto molto semplice abbiate i vostri dati fate i vostri calcoli ma soprattutto abbiate i vostri dati se non avete una stima delle percentuali ma dite vabbè secondo me no ecco partite male allora a quel punto questa non è la domanda che attualmente fa per voi ma dovete buttarvi sul backtesting backtestare backtestare e a quel punto effettivamente potrete fare i vostri calcoli ma prima di arrivare a questa domanda dovete avere una strategia un trading plan delle regole e un backtesting senza questi quattro elementi è inutile che vi facciate questa domanda perché la risposta è dipende ma non dipende da te dipende proprio da tutto quello che deciderai di fare ci sono mille mille variabili e per poter calcolare effettivamente un qualcosa bisogna avere le idee abbastanza chiare bisogna già essere a buon punto nel processo di studio e di risultati ecco detto questo ragazzi io qua sotto vi lascio il tool che potete scaricare per farvi i calcoli senza andare a fare proporzioni o altro qualora vi risultassero magari un po' difficili poi il tool è molto carino vi dà delle risposte molto veloci diciamo quindi lo trovate qua sotto per il resto fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un like un commento iscrivetevi al canale mi raccomando se vi piacciono questi contenuti attivate la campanellina delle notifiche così da rimanere aggiornati su ogni nuovo video e per qualsiasi dubbio o domanda ragazzi mi trovate disponibile sia qua sotto nei commenti sia su Instagram e come sempre cerco di rispondere a tutti noi ci vediamo in un prossimo video